Buona serata, nuova edizione del tv giornale di Telestense, diverse le notizie come sempre, parleremo intanto di intossicazione da monossido, bimbo ricoverato a Cona, vi racconteremo quello che è successo, andremo anche al petrolchimico dove si è tenuta una conferenza questa mattina in cui si è parlato di più sostenibilità, in particolare con la nuova tecnologia MoreTech e vi spiegheremo di che si tratta, andremo anche alla Salestense, una nuova veste nel rispetto dell'identità originaria e poi altri appuntamenti legati alla fine settimana, tra cui ricordiamo quello della SPAL che tornerà in campo domani alla Paolo Mazza alle ore 14. Ma cominciamo subito dalla cronaca perché il TAR di Trento ha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell'ORSA JJ4 firmata lo scorso 8 aprile dal Presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti. L'esemplare è accusato appunto di aver aggredito e ucciso Andrea Papi, l'ex studente dell'Università di Ferrara che ha perso la vita la scorsa settimana ed è la seconda volta che il TAR di Trento sospende un'ordinanza per l'abbattimento dell'ORSA JJ4. E parliamo adesso di sanità, come sappiamo le problematiche collegate all'emergenza urgenza con le relative criticità registrate dal pronto soccorso dell'ospedale di Cona risultano di lunga risoluzione. Intanto c'è un piano in corso nel Ferrarese per diminuire le sofferenze al Sant'Anna e sentiamo dunque quale azione è stata messa in atto. Completato il trasferimento dell'osservazione breve e intensiva all'interno del pronto soccorso in un'area vicina al triage e alle attese. Prima lobby si trovava all'interno dell'attuale medicina d'urgenza, un'operazione che secondo le aziende sanitarie porterebbe un risparmio di tempo nello spostamento degli operatori, i quali operando più vicini tra loro avrebbero la possibilità di lavorare con maggiore sinergia. Il trasferimento è funzionale a rendere i percorsi più fluidi e appropriati sia dal punto di vista logistico che assistenziale, sottolineano dall'azienda ospedaliera universitaria Sant'Anna, secondo cui prosegue l'attuazione delle misure finalizzate a migliorare i flussi di pazienti all'interno dell'area emergenza-urgenza dell'ospedale Sant'Anna di Cona e conseguentemente a limitare i tempi d'attesa che da mesi affliggono il pronto soccorso. E come diciamo in apertura parliamo del bambino di un anno intossicato dal monossido di carbonio probabilmente a causa di un malfunzionamento della caldaia a gas. Ieri sera in tarda serata appoggio renatico nella casa di una famiglia di origine rumena composta da 5 persone sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il bambino è stato ricoverato con l'elisoccorso a Cona ma non è fortunatamente in pericolo di vita. I genitori sono andati al pronto soccorso per accertamenti. Adesso invece andiamo al petrolchimico, più impegno verso la sostenibilità con il riciclo di materie plastiche. L'Ion del Basel all'interno appunto del petrolchimico di Ferrara ha presentato la nuova tecnologia MoreTech e vediamo di cosa si tratta in questo servizio. Un impegno verso la sostenibilità con il riciclo molecolare e la conversione dei rifiuti di plastica in nuove plastiche. L'Ion del Basel, azienda leader nelle industrie chimica mondiale che opera anche a Ferrara all'interno del petrolchimico, ha presentato la nuova tecnologia MoreTech, un impianto pilota che guarda al futuro e all'ambiente. Il motivo è la spiegazione di quella che è la nostra strategia, il nostro impegno per la sostenibilità, per massimizzare il riciclo delle materie plastiche e i nostri impegni per quello che riguardano i valori, la sicurezza, il rispetto delle persone e il contributo al cambiamento climatico. Qui a Ferrara stiamo sviluppando una tecnologia di riciclo chimico o molecolare, come lo chiamiamo, che abbiamo chiamato MoreTech, che serve per riciclare plastica post-consumo e riformare le materie prime per generare di nuovo materia plastica. Questa tecnologia permette di aumentare e massimizzare la quantità di materie plastiche che possono essere riciclate e come complemento rispetto al riciclo meccanico, cioè prendere rifiuti plastici e rifonderli per fare degli altri oggetti. Qui ci troviamo nel laboratorio che abbiamo chiamato di circolarità, dove cioè supportiamo tutta questa attività di riciclo delle materie plastiche. In questo laboratorio in particolare supportiamo le attività di riciclo chimico delle materie plastiche, nel laboratorio a fianco supportiamo tutte le attività di riciclo meccanico delle materie plastiche. La mattinata a cui hanno partecipato tra gli altri gli assessori comunali Cristina Coletti, Angela Travagli e Alessandro Balboni è stata introdotta da una conferenza che ha visto la presenza, oltre che del vicepresidente Gabriele Mei, del direttore del centro ricerche Giulio Natta, Antonio Mazzucco. Noi qui al centro ricerca facciamo sviluppo di tecnologie, di catalizzatori e prodotto. Ovviamente i tre argomenti vanno insieme, quindi uno sviluppo di tecnologia è possibile grazie a uno sviluppo di catalizzatori e l'insieme dei due ovviamente porta ad un prodotto. Quello che è successo negli ultimi anni è che ci stiamo occupando non solo di polimerizzazione ma anche di depolimerizzazione, cioè il processo inverso, partendo dalle molecole di polipropilene, polietilene, cioè di plastica, tornare indietro a quello che è il monomero di partenza. Tutto questo nell'ottica della circolarità, quindi recuperare la plastica del suo fine vita, riprocessarlo, riprodurre il monomero, rialimentarlo in un processo di polimerizzazione e riprodurre del polimero della plastica vergine che poi verrà riutilizzata da tutti noi i consumatori. Altra conferenza di questa mattina parla del restauro del palcoscenico e delle poltrone con nuovi tendaggi, nuova pavimentazione e rifacimento dei servizi igienici e dell'illuminazione della Sala Estense di Ferrara. È partita infatti in questi giorni l'opera di riqualificazione da mezzo milione di euro, metà dal PNRR che regalerà dunque un nuovo volto, una veste più moderna e confortevole alla sala che si trova in piazza municipale senza cancellarne l'identità e i caratteri originari. Il programma e gli obiettivi dell'intervento di riqualificazione da opera del Comune di Ferrara sono stati illustrati questa mattina. Vediamo. La Sala Estense è uno dei luoghi del cuore per i ferraresi. Ci sono tanti luoghi importanti a Ferrara ma questo è uno dei luoghi a cui i ferraresi sono particolarmente affezionati. Voi per la pluridecennale attività di cineforum, di musica e di spettacoli, sia per la posizione centrale, questa sala riveste un affetto particolare per i ferraresi e in aggiunta ai lavori di climatizzazione che riusciamo a fare grazie a un finanziamento del PNRR che siamo riusciti ad ottenere, l'occasione è stata quella di riqualificare completamente la Sala Estense. Aveva bisogno, molti anni che non aveva attenzioni e con questo intervento importante andiamo a completamente a rinnovarla, saranno completamente rinnovate tutte le poltroncine, il palcoscenico, rifaremo i bagni al primo piano, una completa tinteggiatura, sistemeremo l'accessibilità per i disabili alla Sala Estense, insomma una Sala Estense tutta nuova come merita, è un intervento che ho fortemente voluto, diciamo recuperando delle somme dal bilancio e potremo presentare al più presto nel primo autunno una Sala Estense tutta nuova come merita. E adesso parliamo del forte cordoglio che ha destrato la scomparsa dello storico ed esperto di cinema Paolo Sturla-Vogadri, noi lo ricordiamo riproponendo in particolare un estratto da un'intervista realizzata nei nostri studi, vediamo. Il mondo della cultura ferrarese piange la scomparsa di Paolo Sturla-Vogadri, aveva 88 anni ed era esperto di cinema e di storia, in particolare di crociate e templari. Era stato uno dei fondatori della Proloco Ferrara di cui era presidente onorario, in tanti lo hanno ricordato in queste ore. Noi lo facciamo riproponendo un estratto dell'intervista del 2014 realizzata da Marco Mariotti all'interno del programma Cinema Edison dove parlava del padre Antonio Sturla, precursore del cinema ferrarese. Io credo di non aver sbagliato a definirlo l'Aedo di Ferrara, perché credo che sia stato proprio lui il primo a valorizzare attraverso la pellicola la nostra città, che non è poi neanche tanto difficile poterla valorizzare, in quanto ha tanti angoli misteriosi e addirittura credo che abbia una parte preponderante quell'atmosfera brumosa che permea la città. Ferrara è stato anche luogo di, diciamo, bersaglio di tanti cineasti e registi. Io credo che come minimo, ecco, se facciamo una proporzione fra Ferrara e Roma, credo che siano stati più fatti realizzati i lavori più a Ferrara che non a Roma, pur essendo la capitale del cinema italiano. Ecco. E poi quanti personaggi nati a Ferrara si sono proiettati, addirittura se consideriamo un personaggio premiato da ben tre, cioè con ben tre premi Oscar, passiamo a Rambaldi. Carlo Rambaldi, che è stato praticamente un allievo di mio padre. E adesso cambiamo argomento, parliamo di sanità. Verificare di persone i risultati di una terapia vale più di ogni altra informazione a riguardo. È quanto sostengono i professionisti che ogni giorno da oltre dieci anni lavorano sui disturbi del movimento con il dispositivo medico gondola e la terapia AMPS. Sentiamo dunque un breve estratto della puntata di Sanità Benessere Oggi, che sarà in onda questa sera alle 21.30 su Telestense. La terapia AMPS, dottor Tassin, che cosa vuol dire? Spieghiamolo. AMPS è una terapia periferica, una stimolazione periferica che va a riattivare delle aree motorie. È una terapia innovativa, una terapia che nasce da circa 20 anni, forse qualcuno in più, di studio sulle periferie al sistema nervoso centrale, che ci ha permesso di capire che un determinato stimolo in un determinato centro nervoso della pianta del piede può andare a migliorare delle performance motorie a livello del sistema nervoso centrale. Sono oltre dieci anni che siete concentrati su questo dispositivo medico, la gondola appunto, che abbiamo imparato a conoscere, quella che è in studio qui con noi questa sera, e il tipo di gondola presente negli ambulatori, negli studi medici, negli ambulatori di fisioterapia. Allora, quanto è giusto che la gente si rechi da te in autonomia? Quanto dipende dalla loro voglia di riprendere, di vivere, di ritornare ad avere una spontaneità nel loro modo di muoversi, nella loro vita di tutti i giorni. E devo dire che guardando le trasmissioni così, mi è stato proprio riferito, sono contenta perché quello che voi dite in trasmissione poi lo dite di persona e lo fate. Cioè non è che ci siano cose diverse, che noi raccontiamo qui una cosa e poi da noi venite a fare altro. Quindi anche questo è un qualche cosa che a me fa piacere, che passi un messaggio reale, positivo, e che quindi diamo la possibilità a persone che possono avere disabilità di poter venire a provare. Venite a provare, venite a verificare di persona cosa effettivamente riusciamo a darvi, oppure no. Se non otteniamo nulla, va bene, ok, ci abbiamo provato e lì ci fermiamo. Ed è stata presentata la quarta edizione del progetto Camminate della Salute, patrocinato dal Comune di Ferrara a cura del Centro di Attività Motoria Esercizio Vita Medical Fitness. Si partirà giovedì 20 aprile per proseguire fino alla fine di settembre e gli incontri si terranno tutti giovedì alle 18 sulle mura di Ferrara. L'iniziativa, come vedete, è stata presentata oggi appunto in Comune, esattamente in Sala degli Arazzi. Vedremo il servizio nelle prossime edizioni del TV Giornale di Telestense, ma ricordiamo che sarà disponibile su telestense.it e sui nostri canali social. E si terrà invece martedì 18 aprile presso la CNA di Ferrara in via Caldirolo il convegno PNRR a Ferrara più diritti alle donne. Moderatrice del dibattito sarà Daglia Bighinati che ci ha anticipato alcuni dettagli nell'ultima puntata di Detto tra noi. Vediamo. Ci saranno più diritti per le donne dopo che si sarà realizzato, diciamo, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi, con questo seminario, che è il secondo che facciamo come gruppo di fare diritti, che è un titolo che abbiamo voluto dare perché riportasse subito al tema dei diritti. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, diciamoci la verità, è una quantità enorme di miliardi di euro che vengono in Italia dall'Unione Europea che aveva già varato con il Next Generation Europe un programma per aiutare i paesi che uscivano, diciamo così, dalla pandemia a riprendersi dalla crisi economica, sociale e anche psicologica. E quindi questo Piano non soltanto vuole aiutare i paesi a guarire da una crisi ma vorrebbe anche renderli migliori. Cioè una volta il Piano dovrebbe consentire al Paese non solo di recuperare la salute che aveva prima ma di recuperare, di eliminare, diciamo, gli elementi critici che ne impedivano lo sviluppo non soltanto in termini di crescita economica ma anche in termini di crescita culturale, di giustizia sociale, di coesione. Ecco, perché il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non soltanto parla di necessità di una transizione ecologica, cioè di trasformare il nostro modo di produrre e di creare un'economia verde perché il cambiamento climatico sta creando disastri da ogni parte. Non soltanto ci dice che dobbiamo diventare esperti nella digitalizzazione perché comunque il futuro sarà di questi strumenti digitali ma ci dice che dobbiamo avere una cura particolare per l'istruzione e la cultura e anche per ridurre ed eliminare nel tempo i divari che ci sono, le discriminazioni che ci sono all'interno della nostra società. Una di queste discriminazioni o divari o di diritti è fra le generazioni, pensiamo ai giovani che stanno soffrendo nella nostra società almeno in termini di lavoro, di possibilità di occupare, di fare un progetto di vita e la discriminazione riguarda le persone disabili, le persone molto anziane e riguarda storicamente le donne. E intanto domani altro appuntamento, domani sabato 15 aprile quando alle 18 si terrà l'inaugurazione della mostra Sguardi, un'esposizione di acquerelli e disegni a cura di Daniela Cappagli e Daniele Civolani. L'appuntamento è presso la sala espositiva del liceo artistico Dosso Dossi in via Bersaglieri del Po 25 a Ferrara e ricordiamo che la mostra rimarrà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19.30 fino al 30 aprile. Ed è tutto pronto per la sesta edizione della Corsa della Bonifica che si terrà domenica mattina con partenza ed arrivo dall'impianto idrovoro di Baura. Organizzata dal Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara la corsa è nel calendario della WISP e dal sostegno di alcune associazioni come l'Avis Provinciale di Ferrara che ha l'obiettivo di promuovere sani stili di vita. Vediamo il servizio. L'Avis ha appoggiato da subito questo progetto. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo nostro è sempre quello della raccolta del sangue e del plasma quindi la sensibilizzazione in questo ambiente, per l'ambiente sportivo quindi la sensibilizzazione verso gli atleti ma non solo gli atleti perché come abbiamo detto questa è una manifestazione di aggregazione e quindi aggrega persone che sono atleti ma anche persone che vengono lì solo per stare in compagnia. Per noi è molto importante quindi nell'ambiente sportivo perché l'ambiente sportivo ha come sinonimo i corretti stili di vita e quindi chi meglio di uno sportivo può essere un ottimo donatore. Essere presenti sul territorio per noi è molto importante ed è per questo che in queste manifestazioni come ha detto dalla prima edizione noi collaboriamo perché è proprio in questo modo che Avis può sensibilizzare le persone per essere presenti nel territorio. Si ritorna dalla mezza maratona alle 7,5 km? Sì, è una distanza che abbiamo visto nelle 5 edizioni precedenti essere particolarmente gradita sia dagli amici podisti competitivi e soprattutto anche da chi vuole farsi una passeggiata lungo le nostre campagne quindi un percorso che si presta per chi vuole correre veloce ad essere fatto tutto da un fiato e invece per chi vuole passeggiare offre diversi scorci paesagistici, diversi spunti. È previsto per l'iscrizione alla gara competitiva un contributo di 10 euro mentre per la camminata ludicomotoria un contributo di 5 euro. Per entrambe le manifestazioni ovviamente è previsto un gadget mentre sono gratuite, assolutamente gratuite, le iscrizioni per le categorie giovanili fino ai 16 anni e anche per gli amici a quattro zampe. La novità di quest'anno, finite le competizioni, finita la parte agonistica abbiamo pensato ad un terzo tempo, o quello che succede in altri sport tipo il rugby e quindi faremo un pasta party aperto a tutti quindi un bel piatto di pasta, di maccheroni per tutti camminatori, competitivi, accompagnatori il pasta party è organizzato in collaborazione con i ragazzi del Civico 77 vi aspettiamo. E c'è molta attesa per domani pomeriggio la SPA torna al Paolo Mazza contro il Brescia oggi c'è stata la conferenza stampa di Mr. Oddo sentiamo dunque le sue parole. dal punto di vista mentale l'approccio che dobbiamo avere noi è il medesimo che abbiamo avuto nell'ultima gara ovviamente e sicuramente abbiamo il morale un pochino più alto una vittoria ti dà consapevolezza se questa è venuta oltretutto contro una diretta concorrente ovviamente diciamo che stiamo mentalmente un po' meglio adesso bisogna non commettere gli errori che abbiamo commesso in passato da quando ci sono io nella mia gestione mi riferisco alla vittoria dopo il Cittadella e quindi un filo sottile che non bisogna superare tra tra l'entusiasmo che ci deve essere giusto che ci sia e magari l'euforia che ti porta a commettere errori squadra che vince non si cambia? se fosse così vincerebbero tutti i campionati non è sempre così valutiamo, stiamo valutando tutte le circostanze c'è un avversario diverso quindi vediamo un attimino non diamo vantaggio agli avversari io non sono uno che non penso che il ritiro ti faccia vincere anzi il più delle volte il ritiro può essere anche deleterio nella testa dei giocatori in questo caso come abbiamo detto in altre circostanze ci sono delle squadre che lottano per salvarsi hanno quella mentalità dall'inizio dell'anno ci sono squadre che si devono abituare a questo e noi società e staff siamo concordi nel fatto che per creare una giusta mentalità a volte c'è bisogno anche di questo non è stato lunghissimo siamo andati un giorno prima e magari fatto in questo modo magari può servire ma non ai fini della vittoria ma ai fini della della consapevolezza del momento che stiamo vivendo e dal fatto che tutte quante le cose anche piccole possono essere utili ovviamente seguiremo la SPAL domani pomeriggio dalle 13.50 con Match mentre per il programma della serata vi ricordo alle 20 l'appuntamento con Bonifica Oggi alle 21.30 il già citato Sanità Benessere Oggi alle 22.20 arriva lettera dalla cooperazione con Roberto Benassi Roversi e alle 23.40 torna prima della prima in tv questo ed altro dunque su Telestense ma vi ricordo aggiornamenti su Telestense.it e sui nostri canali social come sempre dunque grazie per averci seguito e l'appuntamento è rinnovato alla prossima edizione grazie a tutti Grazie a tutti.